L'idea di creare una giornata mondiale della gioventù è ancora oggi una delle più grandi novità introdotte da un pontefice nella storia della chiesa, uno di quei segni tangibili che in maniera sistematica ritornano e che ovviamente ci riportano sempre alla mente Giovanni Paolo II, il padre fondatore delle GMG. Cinque anni dopo la sua elezione a pontefice nel 1983, Carol Voitiva organizzò un giubileo straordinario sul tema della redenzione nel 1950esimo anniversario della data convenzionale della morte e resurrezione di Cristo. In questo anno santo tra i vari appuntamenti ci fu spazio anche per il giubileo dei giovani che culminò il 15 aprile 1984 domenica delle palme con 300.000 giovani che andarono a gremire piazza San Pietro, una cifra assolutamente insolita per l'epoca. Il santo padre approfittò quindi dell'anno internazionale della gioventù indetto dall'ONU per il 1985 e diede appuntamento ai ragazzi a Roma per l'anno successivo. Quell'occasione datata 31 marzo sancì di fatto la nascita delle giornate mondiali della gioventù. Venne stabilito così di organizzare questi eventi ogni due anni in una città del mondo scelta dal Papa. Le prime furono Buenos Aires nel 1987 e Santiago de Compostela nel 1989. Con il passare degli anni le GMG acquisirono un'importanza sempre maggiore. Quella del 1995 a Manila si svolse davanti a oltre 4 milioni di persone, avvenimento ancora oggi considerato come il più grande raduno umano della storia. Il 2000 segnò un altro storico momento per le giornate mondiali della gioventù, il giubileo che segnava il passaggio di millennio fu teatro della GMG di Roma. La piana di Torvergata accolse più di 2 milioni di giovani nella seconda metà di agosto e Giovanni Paolo II nonostante le sue condizioni di salute già precarie prese parte alle celebrazioni e si fece coinvolgere dallo spirito trascinante dei giovani raccolti in preghiera in occasione della veglia. Cari giovani del secolo che inizia, dicendo sì a Cristo, voi dite sì ad ogni vostro più nobile ideale. Io prego perché Eri regni nei vostri cuori e nell'umanità del nuovo secolo e del nuovo millennio. Non abbiate paura di affidarvi a Lui, Eri vi guiderà, vi darà la forza di seguirlo ogni giorno e in ogni situazione. Toronto, Colonia, Sydney, Madrid, Rio e Cracovia sono state le tappe della GMG in questo nuovo millennio. Continenti diversi e città differenti ma legate sempre da un solo principio, radunare giovani con lo scopo della preghiera, grandi incontri per sviluppare fratellanze e condividere storie di fede. Nella messa di chiusura dell'ultima giornata mondiale della gioventù di Cracovia, Papa Francesco ha chiesto ai giovani di superare gli ostacoli all'incontro con Gesù per costruire una nuova umanità che non vede i confini dei paesi come delle barriere. Sognate un'umanità che non accetta l'odio tra i popoli, ha sottolineato Papa Bergoglio, prima di dare appuntamento a tutti i ragazzi a Panama perché la meravigliosa tradizione delle GMG inaugurata da Carol Voitigua si può interrompere ma non può finire. Grazie